Presentiamo questa AMG G63 4MATIC usato Certified, vettura con solo 33.000 km garantita, certificata, controllata dai nostri tecnici Bonera. Troviamo questo nero opaco originale con faro full led, sensori di parcheggio davanti e dietro, telecamera, tanti accessori che vediamo poi nel video, griglia Panamericana con logo AMG, vetri neri sul posteriore edizione Edition One quindi un'edizione ancora più esclusiva essendo una delle primissime prodotte nell'uscita del modello G63 con appunto la colorazione, il cerchio da 22 con profilo rosso, la fascia vicino al battitacco in grigio opaco insieme alla bandella sugli specchietti anch'essa rossa, pinze ovviamente AMG. Qui troviamo uno degli ultimi esemplari di V8 purtroppo su Mercedes AMG perché parliamo di un 585 cavalli biturbo da 850 Nm di coppia e un 4,5 secondi da 0 a 100 pensate per una classe G da oltre 2,5 tonnellate. Ora passiamo agli interni, zona posteriore, comfort che non è da meno con il bracciolo centrale, il climatizzatore quadrizona, anche dietro abbiamo i sedili riscaldati, finiture di alta classe ma anche sportività. Passando invece alla zona anteriori troviamo i sedili completamente elettrici che con memoria riscaldati e ventilati, impianto audio amplificato Bugmaster, leve al volante, carbonio anche qui su tutta la parte della plancia centrale. Ritroviamo ovviamente i sedili sportivi con la doppia finitura rossa e nera. Immancabile pacchetto e luci anche su classe G con tutte le personalizzazioni di intensità e di colore, tunnel centrale con un carbonio lucidissimo per amplificare la sportività di questa G63, l'iconica maniglia sulla parte del passeggero. Poi ritroviamo il nostro cockpit completamente digitale, anche qui con varie personalizzazioni di grafica, dalla supersportiva alla discreta alla classica, leve al volante come dicevamo, comandi al volante. Se cerchiamo invece una parentesi di comfort c'è la possibilità di avere il massaggio sul proprio sedile, il sostegno lombare anche in fase di curva o comunque di utilizzo sportivo, le due fasce lombari stringono più o meno in base alla velocità e all'angolo di sterzata per poi passare invece alla modalità dynamic, più sportiva, più cattiva, la possibilità di settare i vari parametri. Vi salutiamo e vi aspettiamo in concessionaria in Dalle Santo Fiume 28 a Brescia o sul nostro sito boneragroup.it